ciao ragazze bentornate sul canale allora secondo spacchettamento di campagna 13 gli altri prodottini che erano ancora da dover prendere per la campagna di natale allora mi è stato preso questo il set rebel è un set che comprende il profumo lozione corpo e profumo da borzetta 10 ml a 18 99 come potete vedere questa la confezione così come vi arriva il for my light rebel molto carina tutta in viola con questo specie di uccello ribelle e ovviamente guardate carino c'è la spiegazione dei tre prodotti che ci sono dentro molto molto bella la scatola ottimo set poi mi è stato preso allora questo è l'avo mesmory black è un formato da 50 ml e questo se non ricordo male veniva 14 99 poi mi è stato preso anche questo è un fondotinta dell'aventrue in tonalità medium beige è un formato da 30 ml questo veniva 9 euro e 50 mi è stata presa questo è un eyeliner della mark the big intense call in la colorazione il true black non so se riuscite a vederla ok è nera inoltre mi sono state prese queste tre matite sono per il contorno occhi allora le colorazioni sono questa è un black brown marrone abbiamo il black black nera e un altro a marrone il cosmic brown allora ognuna di loro veniva 4 euro e 50 mi hanno preso anche due rossetti della colon trend per intenderci quelli a stick allora questo è la colorazione lolita non so se riuscite a vedere il colore è un rosso non si vede molto questo anche questo è un rosso ed è il frisky red venivano 2 euro e 99 l'uno quelli della con l'ontrending stick poi mi è stata ordinata questa palette sempre di ombretti per gli occhi la playbook stream a 19 e 99 20 tonalità di colore e ovviamente una è una di quelle palette grande con lo specchio molto grande molto molto bella quindi direi ottimo acquisto ottima scelta per fare un regalo altro set per il regalo correlativa a bussa questa è la bussa che accompagnava ovviamente il set guardate che carina ovviamente poi dopo l'andrò a sistemare con la scritta avon per metterci dentro i prodottini allora questo set comprende l'ozione corpo del pur blanca formato da 150 ml il profumo di pur blanca 50 ml acqua profumata sempre pur blanca un formato da 100 ml e il deodorante roll on da 50 ml tutti e quattro i prodottini venivano 12 e 99 poi inoltre mi è stata ordinata questa pinzetta dalla campagna 12 è una pinzetta 2 e 99 allora qui poi ci sono alcuni campioncini che mi sono stati chiesti e due campioncini del power stay perché la cliente era un po' dubbiosa su alcune due colorazioni quindi mi ha chiesto tutte e due le colorazioni così le poteva provare e intanto ha preso il solito fondo dinta che è abituato a prendere allora ragazzi il video qui si conclude spero ovviamente che vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi invito a mettere un like a chi non è iscritto di iscriversi e ovviamente colgo l'occasione per augurare a tutti un buon Natale e ci vediamo ovviamente al nuovo anno un bacione ciao ciao